Chi è in aula ed è fuori dall'aula. Guardi Presidente, intanto è molto difficile iniziare una discussione senza nessuna presentazione della proposta di legge. Mi corre l'obbligo di ricordare che questa proposta di iniziativa popolare aveva delle scadenze, l'ho ricordato prima, sia regolamentari che statutari. Entrambe sono state superate, facendo stare questo Consiglio fuori dalla legalità. Adesso stiamo sanando questa legalità in un modo che, secondo il nostro gruppo della lista Bonino Pannella, è assolutamente inappropriato persino concedere del tempo di sospensione per far parlare i comitati promotori e visto come una cosa che è ford'opera. Quando veramente quest'aula ha visto cose che, come direbbe quel film, voi umani non potreste immaginare. Peraltro è molto difficile, e qui chiedo soccorso, a chi questa proposta di legge la deve portare in Consiglio prendendosene cura. Secondo statuto e regolamento, il Presidente del Consiglio ha cura di mettere all'ordine del giorno e di fare tutte le cose che occorrono a che questa proposta di legge divenga patrimonio e conoscenza dei consiglieri stessi per il dibattito. Io sfido i consiglieri della maggioranza, dell'opposizione, sfido i consiglieri a dirmi come opera questa legge, questa proposta di iniziativa popolare. Lo chiederei anche alla Giunta, visto che per assenza nell'11 gennaio scorso dell'assessore di Paolo siamo stati costretti a rinviarlo. Ora mi pare, diciamo per deduzione logica, quel rinvio tutto politico e tutto significava fuorché l'assenza dell'assessore di Paolo, ma far votare prima il piano dei rifiuti e poi discutere questa legge in modo tale da in qualche modo rispingerla. Perché questo mi pare l'orientamento della maggior parte dei consiglieri, quelli di maggioranza. Spero di sbagliarmi. Però, guardate, mentre è molto facile rimanere all'ascolto, in silenzio, non intervenire quando l'emendamento dell'opposizione tenta di modificare una proposta di legge della maggioranza o della Giunta, io però vorrei a questo punto ascoltare anche le voci dei consiglieri di maggioranza su cosa pensano delle decine di miliardi di firme a sostegno di questa proposta di legge. Noi in Commissione non abbiamo potuto discutere contestualmente del piano dei rifiuti presentato dalla Giunta e della proposta di iniziativa popolare. Per questo i comitati sono stati costretti a chiedere il passaggio in aula. Ma se il passaggio in aula alla fine ci porta a non avere neanche la possibilità di una discussione seria sull'argomento, è veramente sì, questa è una presa in giro dei cittadini. Chi dovesse leggere la proposta di legge scoprirebbe che si vuole far diventare legge i cittadini ci chiedono di far diventare legge la possibilità che il sistema del ciclo dei rifiuti sia all'interno del cosiddetto porta a porta, quello davvero porta a porta, non la raccolta che c'è su strada che come sappiamo costruisce una malagrotta sotto la nostra casa dove i cassonetti posizionati in batteria raccontano qual è la percentuale che la Regione e i comuni di fatto costringono a far diventare tal quale. Abbiamo sempre quei quattro cassonetti neri e poi solo uno blu e uno bianco. A dimostrazione che l'80% della raccolta avviene in modo indiscriminato senza differenziazione, buttando tutto lì dentro, il sacchetto contenente qualsiasi cosa, mentre nei cassonetti successivi, quelli del 20% rimanente, ci dovrebbe stare della carta o vetro e plastica. Però chi va a vedere come vengono poi utilizzati questi cassonetti scoprirà che quelli sono pieni, quelli dell'indifferenziata, mentre quelli della differenziata sono completamente vuoti. Ecco questo racconta questa proposta iniziativa popolare e che dica all'inizio che la Regione ripudia gli inceneritori, certo con una proclamazione forte, ma dà il senso di quello che non si vuole, di quello che i cittadini non vogliono, di quello che tutti noi, credo senza distinzione, non vogliamo, non vogliamo certo l'inceneritore, né vicino tantomeno lontano da casa perché sarà vicino a un'altra casa di qualcun altro. Inoltre la proposta di legge recepisce le leggi vigenti, cosa che la legge attuale non fa perché è antica. Ebbene, chi è contrario a questa proposta iniziativa popolare? Chi è che non vuole ascoltare queste proposte dei cittadini che l'hanno sottoscritta, si sono divisi in comitati locali e poi ci hanno portato queste decine di migliaia di firme? Cioè è una cosa ideologica, è una cosa che fa parte dell'opposizione o della maggioranza? Io veramente quando ho avuto modo di parlare con i comitati promotori ho detto guardate, non parlate con me, parlate con i consiglieri della maggioranza perché è loro in particolare che dovete convincere e coinvolgere soprattutto, coinvolgere è una discussione ma se poi addirittura nei termini di una sospensione vi arroccate come se fosse una questione che impedisce alla maggioranza di dire chissà cosa, beh, è veramente una cosa che poi i cittadini, credo che di oltre 10.000 persone che hanno firmato quella proposta iniziativa popolare ce ne siano una buona parte che ha votato le liste che compongono la maggioranza perché non è che quando uno trova un tavolino per strada che dice passiamo dalla raccolta indifferenziata fatta in questo modo, una raccolta porta a porta, un cittadino che ha votato il PDL non la firma quella proposta iniziativa popolare o un cittadino che si chiede non fate l'inceneritore, non fate una politica che poi fa cadere tutto sugli inceneritori, il cittadino del PDL, dell'Udc o della destra dice no io sono per gli inceneritori e non ve la firmo, ma no, quella proposta sarà stata firmata da una buona parte dei cittadini che avranno votato il PDL, la lista Polverini e gli altri. Ora noi arriviamo alla discussione generale di questa legge in cui ciascuno di noi l'avrà letta per come ha potuto senza averla potuta recepire da chi l'ha scritta, credo che sia anche una necessità capire per esempio come opera questa legge, l'articolo 1 dove va a operare, l'articolo 2 dove va a operare, come si modifica la precedente, se ci fosse stato il presentatore ce l'avrebbe potuto dire, invece non è possibile, non è possibile perché in quest'aula alla fine può entrare il garante dei detenuti, possono entrare persone per visitarla, sedersi, parlare, nella Camera dei Deputati, nel Senato della Repubblica possono entrare persone che non sono senatori o deputati della Repubblica, hanno fatto persino opere, sono entrati musicisti per suonare, a testimonianza che questo è un luogo sacro, ma è un luogo sacro non perché nessuno ci deve entrare, è un luogo sacro per tutti, per tutti i cittadini, perché è qui che si scrivono e si votano e diventano norme che regolano la vita dei cittadini, quelle che vengono proposte, ma sospendere i lavori per consentire ai comitati promotori di dirci da cosa sono stati mossi per raccogliere queste firme, beh, sospendere i lavori vuol dire fare entrare come entrano qui dentro, cittadini che operano e lavorano in questo Consiglio regionale, poter consentire a quest'Aula di conoscere le ragioni che sottostanno alla presentazione e al dispiegamento di tanto lavoro che è stato fatto da parte dei cittadini molti mesi fa ormai. Quindi il gruppo Lista Bonino Pannella ovviamente è, perché l'abbiamo letta questa proposta di legge, è a favore di una proposta che non sconvolgerebbe il piano. Io sfido per esempio l'assessore ai rifiuti, il quale mi deve ancora rispondere come la città del Vaticano paga rifiuti nel Lazio o a Roma specificamente, mi disse che mi avrebbe risposto ma ancora non ho ricevuto risposta, sfido l'assessore ai rifiuti di dirmi qual è la parte della proposta di iniziativa popolare che confligge con il piano dei rifiuti. Il problema del piano dei rifiuti è che confligge esso con se stesso. Prima ci dice che raccoglie il 65% nel 2012, poi ci dice che purtroppo così non si farà per ragioni che sono insi della mancanza di investimento, di strategia del piano, dove il controllo in realtà, lo scenario di controllo in realtà è il sinonimo del perdurare di questo modo di fare il ciclo dei rifiuti. Io ho concluso Presidente, forse potevo concludere semplicemente dicendo che abbiamo perso un'occasione questa volta e veramente questa volta più di altre volte non se ne capisce la ragione. impedire di far parlare, di confrontarsi con una mossa ideologica come blocchi contrapposti da una parte la maggioranza e dall'altra l'opposizione non ha nessun senso. Mi dispiace che non ci siano voci che abbiano, non dico un'indipendenza perché ciascuno, nessuno dice che non ce l'avete, ma che ci si confronti su qualcosa che ci possa unire anche quando è così semplice e così condivisibile, poi dividendoci eventualmente sul voto che sarà contrario e che è a favore. Quindi per quanto riguarda la discussione generale preannunciamo come l'Ista Bonino Pannella il voto favorevole a questa. Grazie.